Una mostra per ricordare i 55 anni del Fotoclub, ha alle sue spalle un piccolo estratto del vostro archivio? Eh no signora, non possiamo fare confronti, io semplicemente a parlare dell'archivio, posso dire due cose, l'archivio online ci sono 2.963 fotografie e queste sono 60, quindi fate un po' i vostri conti. In più abbiamo aperto un'altra sezione nell'archivio che si chiama Progetto Grandi Lastre, io approfitto della vostra presenza per dire aprite questo sito, ci sono altre 4.000 lastre, naturalmente sono 4.000 lastre da catalogare, quindi io proprio vi inviso, andate a vederle, guardatele, se le riconoscete scriveteci, scriveteci cosa riconoscete perché tantissime sono, naturalmente ci sono anche dei doppioni perché sono negative che ho dovuto rendere positivo per leggerle proprio, però ci sono dei ritratti meravigliosi, ma anche dei discorsi, Castiglione Solentino, Castiglione Fibocchi, Cortona, andate a vederle. A proposito di lastre c'è una particolarità, una foto che sembra una panoramica così scattata, così come la vediamo, in realtà sono appunto delle lastre messe una accanto all'altra. Certo, quella è una panoramica antilittera, diciamo, il nostro principale fornitore di fotografie, Lattanzio Gaburri, che era veramente un fenomeno, lui ha fatto uno scatto, quasi 4 scatti con delle lastre 18-24, quindi pensate quasi un formato a 4, le ha stampate a contatto, le ha messe insieme, è una panoramica meravigliosa. Si vede proprio la giostra del Seracino del 32, quindi è praticamente la prima giostra che è stata a corsa con la Lizza, come la vedete oggi. Undici artisti che espongono i loro lavori, il dodicesimo, che non è più tra noi, ma lo sarà sempre, che è Piero Franchini, quindi voi intitolate, dedicate questa esposizione proprio a lui. Sì, noi ogni cinque anni, come tradizione, facciamo una mostra sociale, e noi la facciamo quasi sempre per l'artistico, è molto impegnato. Quest'anno abbiamo deciso di dividerla in due parti, la parte dedicata a Piero e l'archivio, perché lui ci teniva in modo particolare, era proprio orgoglioso di poter divulgare la storia d'Arezzo, lui impreva i libri di Arezzo, insomma, era veramente un culto. E la particolarità, che è una mostra non in bianco e nero, ma virata in seppia, perché lui era convinto che le vecchie fotografie, il tono delle vecchie fotografie fosse forse in seppia. Eh sì, e abbiamo dedicato a lui perché ci manca tanto, ci manca tanto e a me personalmente era più che un fratello, un inclusivo parlava con tutti, se c'era da dirimere una lesica, lui era sempre disponibile a mettere d'accordo tutti.